Assessore Pollinzi, parliamo dei servizi sociali. Per quanto non possa sembrare dall'esterno, in realtà il servizio sociale è continuamente obberato di lavoro, anche perché la pandemia, tra i vari effetti, ha determinato l'aumento dei conflitti familiari, delle povertà e di tutte quelle diseguaglianze di cui purtroppo ogni giorno discutiamo. A proposito di situazioni familiari, per i figli e i genitori separati, cosa state mettendo in campo? C'è il problema di cui si è discusso recentemente, della necessità di avere uno spazio più adeguato agli incontri protetti in questi casi in cui evidentemente ci sono delle situazioni conflittuali che ovviamente sono seguite anche dal Tribunale dei Minori o dal Tribunale Ordinario, per cui è nata, ma questa è una questione che mi è stata segnalata appena ci siamo insediati, attraverso una ricognizione del patrimonio stiamo cercando di dare risposta a questa esigenza. È ovvio che i bambini, soprattutto quelli che vivono queste situazioni molto conflittuali in famiglia, hanno necessità di avere un'attenzione maggiore rispetto a quella che tutti i bambini meritano e di averla in uno spazio che sia a misura di bambino. Immagino che nel vostro progetto c'è anche quello di mettere in campo a sostegno di situazioni di disagio delle figure professionali adeguate? Sì, abbiamo attivato l'equip multidisciplinare attraverso un avviso che è stato fatto qualche mese fa per la costituzione di una long list che ci consente per la prima volta di avere in sede una serie di professionisti tra cui i mediatori familiari, i mediatori culturali, i tecnici della riabilitazione psichiatrica, gli psicologi, ulteriori assistenti sociali, ulteriori amministrativi che ne avevamo bisogno, perché poi le procedure non sono solo quelle di ascolto, di attenzione, di valutazione di bisogni ma richiedono ovviamente a monte delle procedure amministrative che spesso comportano anche un dispiego di energie e di tempi non indifferente. E quindi ci possiamo vantare da questo momento in poi di avere all'interno dell'ambito sociale quindi di tutti i sette comuni di cui il comune di Crotone è ente capofila di avere finalmente dei professionisti diversi oltre agli assistenti sociali che fanno capo al servizio. Assessore, quando parliamo di sociale dobbiamo anche parlare della povertà delle famiglie, della crisi conseguenziale sempre alla pandemia ma dobbiamo dire il disagio economico è molto forte nella nostra città. Sì, per questo che ovviamente abbiamo messo in campo diverse misure, tra cui quella che nelle immediatezze riusciremo finalmente ad attivare, quella di erogare dei contributi alle associazioni del terzo settore che hanno partecipato a un nostro bando, che sono state ovviamente controllate in base a quelli che erano i requisiti richiesti a cui forniremo dei contributi in denaro e loro potranno acquistare per conto del comune diverse derrate alimentari da distribuire alle famiglie più bisognose. Questa, insomma, nella necessità di arrivare ad un Natale che sia un pochino più dignitoso per tutti ci sembrava uno sforzo assolutamente da mettere in campo e ci siamo riusciti.